E questo Nokia 6680 mi piace veramente tanto e sono sicura che Perseo me ne regalerà uno, giusto? Dunque il discorso è questo, siccome loro vendono cellulari di tutti i prezzi, qual era quello da 49 euro? Il Sagen T22 Un Sagen T22 per la Metis Direi che il Sagen non va bene, il 6680 sai, un MTS, lettore MP3, video, fotocopi Va bene, ho capito, per non farci una brutta figura ti regalerò questo cellulare, d'accordo Pronto? Mamma? Mamma mi senti? Non sai che bello, per se mi hai regalato un cellulare bellissimo No, no, ferma, molla qua il cellulare, ma sei scherzata? Ma secondo te io ti regalavo un cellulare del genere? Questo l'ho fatto solo per fare della pubblicità, ma questo me lo tengo io